Bene carissimi amici, un bel ritrovati a tutti voi sul mio canale YouTube, un nuovo appuntamento insieme in giorno d'estrazione, giovedì 24 febbraio e vado a presentarvi un'ulteriore condizione, un altro speciale 90, un 90 specialissimo, abbiamo già in gioco quello di Torino-Venezia molto forte ma vi avevo preannunciato nell'ultima analisi estrazione del di martedì che c'era un altro bellissimo 90 pronto a pagare, quindi attenzione speciale 90 Palermo e Roma, giocheremo questo 90 anche in prima posizione determinata, quindi tenteremo soltanto una posizione determinata per questo 90, attenzione partiremo dall'estrazione di questa sera, giovedì 24 febbraio per massimo 13 colpi, mi raccomando perché è fortissimo, queste sono condizioni di gioco molto molto potenti, quindi giochiamo bene e grande conferma su questo favoloso 90 sulle ruote di Palermo e Roma, 90 secco specialissimo 90 a partire proprio da questa sera 24 febbraio, in modalità vincita avvenuta vi darò soltanto 4 bellissimi ambisecchi per portarci a casa una bellissima vincita di ambo secco con questo favoloso 90, contrattatemi o via mail come sempre o via whatsapp numero 348 75 47 715 per richiedervi la previsione e accettare la modalità vincita avvenuta con pagamento soltanto se uscirà l'ambo secco a ruota secca, quindi un altro speciale 90 per andare a centrare un grande esito, per adesso un saluto a tutti mister Sbancolotto